via bene noi una volta scorsa abbiamo ripassato come è fatto l'anno scorso cioè la cinematica cioè lo studio delle forme di movimento oggi passiamo a un altro grosso capitolo un capitolo fondamentale portando dal punto di vista dell'evoluzione della scienza cioè la dinamica in questo contesto si cerca di rispondere a domande domande molto vecchie in realtà per esempio abbiamo visto il motore più uniforme il moto di flumento accelerato il moto dei gravi il moto parabolico il moto circolare uniforme e via dicendo qui ci ne manca quanti e quali tipi di moto ci sono qui andiamo a vedere per quale ragione ci sono quei tipi di moto o altri che cos'è che farsi che un oggetto si muove in un modo o in un altro cioè andiamo a dare un'interpretazione questo è una cosa banale ho trovato dei tipi di moto molto antiche capire perché gli oggetti si muove in un modo o in un altro e soprattutto sapere cioè avere un'informazione precisa quantitativa delle caratteristiche del moto è stata una conquista che ha preso parecchi secoli vicini secoli oggi vediamo qual è la storia di questa parte che è importante Goethe diceva la storia della scienza e la scienza è se stessa perché se io vi scrivo un'equazione della dinamica alla lavagna quattro singoli uno dietro l'altro può lasciare il tempo che trova ma non deve lasciare il tempo che trova deve farvi saltare sulla sedia chi sono i protagonisti di questa storia beh se prendete il libro di fisica ma tutti i libri di fisica e non solo quello adottato dicono la dinamica i principali protagonisti Galileo in questo contesto va principalmente per il principio di inerzia dei moto del 1000 sui 100 e 1500 mi pare 49 o giù di Newton quindi fatemi controllare le date sono importanti 1590 1680 e questa è una senza niente togliere Galileo di Newton questa è una fase cruciale qui nasce quella che intendiamo come fisica classica classica significa che non va mai fuori moda chi deve costruire un'automobile o chi fa lo shuttle non può ignorare questa parte da vista è essenziale qualsiasi dispositivo meccanico c'è in conto di questo poi ci sono c'è l'elettronica ok lì serve la fisica del 900 fisica del stato soldi meccanica quantistica anche relatività e i principi base vengono da qua questo ha cambiato la storia dell'umanità perché ha comportato una visione del cosmo della terra completamente nuova il modo di pensare delle persone è diverso da prima e dopo questo nasce di quello che si chiama il metodo scientifico che in realtà permina tutta la cultura non solo la parte della fisica costruisco una teoria e vado a vedere se funziona ed eventualmente la correggo la integro la espando la generalizzo per capire di più capire la chino comprendere afferrare capisco afferro se posso fare previsioni e la natura mi dice si hai ragione non capisco se quando vado a fare le leggi la natura mi dice no è top è un po' quello che fa lo studente studia la materia va a fare la verifica e ha un'insufficienza significa che non hai capito o hai studiato male questo non è di per sé un problema si torna indietro e si rifà l'ho imparato come non studiare devo studiare in un altro modo questo è essenziale è tutto lì uno impara dai propri errori se non fa errori non impara mai niente nessuno sa tutto nessuno di questa terra quanto mi è altrimenti lo sa questo è un punto fondamentale ma secondo me una domanda interessante è come ci sono arrivati c'è che strada hanno fatto queste persone per arrivare lì e soprattutto da dove sono partiti cioè prima di loro cosa era successo di solito tutte le grandi scoperte sì certo sono frutto della genialità delle persone però in mente Newton è il più grande scienziato mai a basso sul pianeta ma lui stesso diceva di se stesso io non so cosa gli altri penseranno di me ma io mi sento come un bambino che sulla riva del mare gioca e scopre si meraviglia si emoziona guardando la forma dei sassetti che trova sulla riva quando davanti ha l'oceano infinito che nasconde tesori immensi come Newton vedeva se stesso e inoltre più avanti dice anche io ho fatto quello che ho fatto perché mi sono posto su spalle dei giganti i giganti erano quelli che l'hanno preceduto nessuno fa da zero da zero è difficile la cosa più dura non è partito da zero ha fatto molto ma non è partito da zero questo è importante quando Galileo la dimensionazione precedente ha detto come vedete questo Galileo andava all'università mi si è iscritto inizialmente a medicina il padre voleva che diventasse medico che era una delle carriere più tra virgolette promettenti c'era quella ecclesiastica e quella della giurisprudenza ma la leggeo diserta quasi tutte le lezioni tranne quelle di matematica e di astronomia a quell'epoca matematica e di astronomia erano la stessa materia e lì l'insegnante dell'università di quell'epoca cosa gli diceva? gli diceva beh che l'universo era diviso in due grandi regioni dalla luna in giù e dalla luna in su dalla luna in giù era il regno dell'imperfezione della produttibilità della variabilità e dell'imperfezione e che era fatto essenzialmente da quattro elementi acqua aria fuoco terra questo l'avete sicuramente già visto nel corso di filosofia e che ogni una degli oggetti che stavano sulla terra era composto da un miscuglio di questi e uno tendeva il suo posto naturale l'oggetto è fatto con tanta terra va verso la terra l'oggetto è fatto di fuoco di aria va verso l'alto perché va al suo luogo naturale questo è un moto naturale e che dalla luna in su tutto l'universo è fatto di un'altra sostanza che non ha niente a che fare con quello che c'è sulla terra è fatto di etere è eterna incorruttibile è costante non cambia mai ok che la terra è il centro dell'universo e che tutto ruota attorno alla terra questo Aristotele lo eredita da qualche secolo prima i primi a applicare modelli geometrici alla natura sono stati i greci talete talete Mileto nel 650 circa avanti Cristo comincia a ragionare sulla natura in termini naturali e cerca cause naturali e fenomeni dice addirittura l'universo tutto ciò che c'è non è stato fatto di acqua c'è un principio unico che combinato in modi diversi dà in modo a tutte le sostanze questo è grandioso attribuire a un'unica ente a un unico ingrediente tra virgolette le diverse forme che ci sono anche agli occhi è un passo tutt'altro che intuitivo ma come c'è l'albero c'è il sasso l'aria le pietre sono fatte di acqua lì questo nonostante forse ovviamente sbagliato ma l'idea di cercare un principio semplice che spieghi tutto è quello che rimane tuttora valido cioè la ricerca scientifica agisce in risposta a quella domanda qual è la spiegazione dei fenomeni la spiegazione deve essere semplice e quanto più inclusiva possibile questo è ciò che motiva tutta la ricerca scientifica e nasce nel settimo secolo avanti Cristo da un'idea italiana nessun altro popolo nella storia dell'umanità ha fatto altrettanto quella è la prima pietra lì nasce il pensiero scientifico ancora di più dopo di lui a Nassimandra dice ma secondo me c'è sì una sostanza che è la base di tutto ma non è l'acqua 610 nasce in torno inizio del 616 secondo lui è la peilone non so come scriverlo in greco mi perdone che è una cosa astratta che nessuno ha mai visto però dice con questa sostanza composta in modi particolari ottengo tutto quello che vedo è un po' come questo è un concetto straordinario per l'etica se pensate adesso interpretiamo tutto in termini di energia ma energia nessuno ha mai vista né mai nessuno la vedrà è un concetto astratto ma estremamente utile la chiave per interpretare un sacco di fenomeni un'idea rivoluzionale qui nasce il pensiero scientifico cioè interpretare quello che vedo in termini naturali al di là del mito l'universo non è costruito dalle divinità che lo fanno così com'è adesso è interpretabile in termini naturali in questo periodo nasce anche la medicina i primi documenti medici che abbiamo sono del secondo millennio avanti Cristo in Egitto una prescrizione di quello che bisogna fare per un sacco di malattie ma sono tutti quasi tutti degli come dire degli esorcismi perché si riteneva qualcuno stesse male perché aveva subito delle maledizioni qui nasce l'idea nel VI secolo avanti Cristo che le malattie hanno cause naturali ci sono i primi studi in quest'epoca che distinguono per esempio la circolazione sanguigna venosa da quella arteriosa qualche secolo dopo ci sono studi sulla funzione sulla distinzione tra i nervi motori i nervi sensori ci sono chirurghi in grado di dare la vista ai cesi facendo interventi di rimozione della cataratta senza un'idea di ricerca di scienza simile o che percorre lo vediamo oggi questo è impossibile la nostra cultura muove da qua successivamente la la mole di conoscenza accumulata dai greci viene diffusa dall'India fino al Mediterraneo grazie ad Alessandro e lì si entra in un periodo di ricerca scientifica floridissima ci sono nel 1901 mi pare a largo di un'isoletta nel mare Geo è stato trovato un blocco ormai un blocco di diversi ingranaggi datazione circa primo secolo avanti Cristo ed era su una nave che portava Doni a Roma questo veniva da proveniente della Grecia dall'Egitto forse dall'Asia minore da Turchia è rimasto ignorato circa per 50 anni a metà del secolo scorso nel 1950 un matematico dell'università del Galles studia questo reperto e ha un'idea e lo ricostruisce utilizzando una scansione a raggi X e ricostruisce gli ingranaggi lo ricostruisce in toto e vede che è il primo calcolatore tascale portatile è una macchina in grado di calcolare la posizione degli astri la data degli unbiadi per dire le essi di sole e di luna e fate conto che i meccanismi cioè le tecniche meccaniche necessarie a costruire quell'oggetto arrivano in Europa eravamo convinti che l'Europa le avesse inventate nel XVII secolo quindi sono state prodotte con circa 17 secoli d'anticipo quindi va chiamato il meccanismo fuori del tempo la macchina di Antichitera io l'ho vista all'uso di ecologia di Atene mi cantisco che è una cosa che merita ma questo non è tutto il nello stesso periodo affiora un concetto che poi Galileo riscopre il principio di inerzia cioè l'idea che un oggetto rimane nello stesso stato di moto finché non interviene qualcosa a cambiarlo Galileo lo descrive in questo modo vi leggo il passo del demotto 1591 in queste condizioni cioè in assenza di attrito qualsiasi mobile su un piano equidistante dall'orizzonte un piano orizzontale sarà mosso da una forza minima anzi anche da una forza più piccola di qualsivoglia altra forza cioè se non ho attrito per mettere in moto qualcosa mi basta una forza piccolissima questo contrasta tutte le idee di Aristotele è una rivoluzione ma sentite questa dimostreremo che i pesi in una tale posizione posti cioè su un piano orizzontale privo di attrito possono essere mossi da una forza minore di qualsiasi forza adatta trovate differenza tra questi due ve lo ripeto tutti di inerzia Galileo 1591 quello che vi ho appena letto è un passo preso da Perone di Alessandria a cavallo tra il primo e il secondo secolo da questo 15 secoli prima non solo vi leggo anche questo questo lo ve lo leggo tutto se lo capite subito di cosa si tratta successivamente attraverso l'analisi degli errori fatti precedentemente e mediante l'osservazione dei risultati di esperimenti sottolineo di esperimenti il principio fondamentale della costruzione fu ricondotto a un elemento costante salto il dettaglio dopo ve lo leggo tutto che non tutto si possa ottenere con il ragionamento e con i mezzi della meccanica ma che molto debba essere scoperto con gli esperimenti risulta chiaro sia da molte cose che in particolare molti altri cose in particolare da ciò che dirò in seguito questo è il manifesto del medito scientifico non posso raggiungere risultati risultati tra virgolette solo meditando devo fare gli esperimenti non solo ma non ne basta uno devo farne tanti e meditare sul risultato quello che vi ho appena letto è stato scritto da un certo filone divisa il secolo nel nel in un adesimo siamo a velo poeta terzo secolo avanti in grado quasi 20 secoli prima da divarire qualche secolo dopo Euclide scrive gli elementi di geometria un testo che è rimasto un testo leader per venti secoli dopo la Bibbia è il testo che ha avuto più edizioni più letto sul pianeta dopo la Bibbia è il libro più stampato sapete quante edizioni ne hanno fatte i romani? neanche una il primo tentativo di traduzione in latino del sesto secolo è andato male non ci sono traduzione la prima traduzione in latino degli elementi di Euclide è del 1120 a opera di Adelardo di Bath in inglese ahimè i romani bloccano questo progresso 31 d.C. battaglia di Azio entrano in processo dell'Egitto degli antolomei deportano quelli che erano nella biblioteca e questo si blocca rimane fermo introducono un ritardo nello sviluppo delle ricerche scientifiche di circa 13 secoli 13 secoli la geografia di Eratostene del Magesto di Tolomeo vengono tradutti in latino solo nel XII secolo non prima i romani avevano una mentalità utilitaristica quello che mi serve prendo e il resto ignora non mi preoccupo del perché funziona 13 secoli di ritardo nello sviluppo scientifico per fortuna appunto la cultura greca più regnistica diffusa anche dall'Egitto all'India cioè viene raccolta dagli arabi infatti gli elementi di Euclide vengono tradotti non dal greco vengono tradotti dall'Araba un altro grande traduttore è Gerardo da Cremona anche lui XII secolo lui ha dell'arte di Bas quando sono persone chiave per lo sviluppo del rinascimento la rinascita dell'Europa senza le loro traduzioni Cheplero Copernico non avrebbero trovato niente su cui studiare e avrebbero trovato testi in arabo e loro l'arbo non lo conoscevano la matematica utilizzata da Cheplero per raggiungere le leggi sui pianeti che vedremo più avanti è una traduzione del trattato sull'iconica di Apollone di Berga di cui un libro ha in me dato perduto per sempre fatta da Gerardo da Cremona 1200 nel una data fondamentale nel una data fondamentale nel 1985 in Spagna Alfonso VI di Castiglia conquista Toledo quella che gli spagnoli chiamano la re conquista e meno male per noi trova un'immensa biblioteca con testi in greco e in arabo che gli arabi avevano portato là per studiarli anziché distruggere la biblioteca come avevano fatto i romani o sappiggiarla chiama studiose da tutta Europa che cominciano a venire a fare copie dei monoscritti a tradurli e cominciano a girare nuove idee e su questi libri hanno studiato Galileo Copernico e Kepler e Newton cominciano a girare nuove idee e vengono recuperati scritti e idee antiche Newton quando parla nei principi matematica e filosofia naturalis parla della legge di gravitazione universale lui attribuisce l'idea a Pitagora in realtà in realtà l'idea di quella forza nasce circa 50 anni prima in Francia e le idee nuove che nascono da tutti quei testi mettono in crisi il modello di universo in voga e che veniva trasmesso nell'università a quell'epoca Copernico dice ma se il sistema geocentrico non funziona i greci stessi sapevano che non funzionava che aveva difficoltà venivano fatti cerchi su cerchi i pianeti giravano su cerchi che giravano su altri cerchi per riuscire a comprendere il moto c'erano qualcosa come 77 cerchi in totale una cosa complicatissima per cui dice ma se un betto invece sul sole se il sole è in centro tutto diventa molto più semplice i disaccordi rimanano comunque perché Copernico comunque aveva l'idea che le orbite fossero circolari questo non funziona non esattamente ma la descrizione è enormemente più semplice che per loro va un pochetto più avanti il circuito migliora se anziché usare cerchi uso ellissi da dove è venuta l'idea studiando il trattato sul coniche di Apollonio di Perga secondo secolo a.C. c'è un altro passo che voglio leggere che è fondamentale vediamoci l'altro qua questo è uno scritto di Plutarco lo storico di epoca romana imperiale nato in Grecia in epoca imperiale dal 50-120 d.C. che scrive nelle questioni di Platone nelle platonice questiones doveva pensare che la terra fosse stata progettata non confinata e stabile cioè ferma al centro diverso ma rivolgentesi o di evoluzione e rivolgente come successivamente affermato da Aristarco Aristarco di Samus dell'epoca più o meno di Pitavio cioè terzo secolo a.C. primo modello eliocentrico e Seleuco 190 a.C. in meso patale comunque anche lui lavorava di studio il primo Aristarco assumendolo cioè il fatto che la terra si muovesse solo per ipotesi Seleuco provandolo nel secondo secolo a.C. ci sono studi che dimostrano che la terra si muove in base a cosa? in base allo studio delle maree quando Galileo dice se Copernico afferma che la terra si muove come faccio a non rendermene conto? ignora tutta quella parte diciotto secoli prima di lui qualcuno ha dimostrato che la terra si muove se no non si spiegano le maree Aristarco diciamo presume suppone che la terra sia in moto fa un'ipotesi e vede che l'astronomia funziona cioè riesce a rendere conto abbastanza bene dei moto degli altri se ne è quello dimostra scusate se è poco la teoria se voi vedete un libro sulla terra e mare si parte da Newton ahimè no Newton ha fatto molto ma non è stato il primo che ha spiegato le maree nuove recenti 190 avanti Cristo la terra si muove se no le maree non ci sarebbero o non sarebbero quelli quali sono quindi veramente non dà ragione a Newton dicendo ha fatto molto ma stava sulle spalle di Gigante e nasce una rinasce una rivoluzione scientifica che sta stroncata qui 31 avanti Cristo poi si c'è Tolomeo ma Tolomeo compila riassume quanto fatto prima nella Magesta poi siamo arrivati alla ciliegina sulla torta 380 dopo Cristo Teodosio vieta tutti i culti pagani e impone un editto di Costantinopoli in cui chiude tutti i tempi non cristiani Alessandria viene incendiata la riva di Orica e quell'epoca rimaneva viene disperso completamente la storia ne subisce ancora i danni perché non è un caso che nell'arco di una generazione per esempio l'ultima scritta geroglifica in Egitto è del 392 avanti dopo Cristo una generazione viene cancellata viene dimenticata come si scrive i geroglifici bisogna aspettare fino al 1700 per riuscire a capire come come interpretare i geroglifici come una scritta sagra pagana le ha volute non si può più scrivere il libro di Orica quello che vi ho raccontato oggi lo trovate sul libro di Lucio sulla rivoluzione dimenticata è un testo secondo me fondamentale molti non sono d'accordo ma lui documenta in modo estremamente preciso puntuale tutto ciò che dice il rinascimento il rifiorire dell'Europa 1600 1600 1600 ha radici molto antiche è una riscoperta quindi ciò che uno custodisce la cultura per virgolette è a rischio di stare attenti non è scontato che quello che sappiamo oggi si saprà anche domani la trasmissione della cultura è una cosa che va curata non è scontata non è ovvio può andare perduta l'ottavo libro del trattato sulle coniche di Napoleone di Berga magari conteneva la teoria della gravitazione universale non lo sapremo mai i primi quattro libri sono arrivati in greco gli ultimi tre in arabo ma l'ottavo libro è andato perduto completamente fate conto per dare un'altra idea della situazione Vitruvio no Plinio scusate Pino il vecchio scrive nelle storie naturales cita un trattato di apicultura come allevare le api lui sicuramente ha letto il trattato di apicultura alessandrini ma non ha capito una banana perché perché quando dice tenta di capire come mai le api fanno le celle esagonali dice le fanno esagonali perché hanno sei zampe la semenza in realtà l'esagono come dimostrato ripeto la geometria vecchia è il poligono regolare che a parità di superficie ha il perimetro minimo per cui serve il minimo della cera per costruirlo grazie